Ciao, con questo video puoi imparare le basi di Arduino in 10 passi. È un video per principianti che tocca 10 punti fondamentali per iniziare a creare i primi circuiti, i primi prototipi con Arduino. Iniziamo subito. Utilizzeremo un Arduino Uno R4 oppure un R3 o una scheda compatibile e ti servirà anche un sensor kit di Arduino o un kit groove di SID Studio. Questo perché per seguire gli esercizi e i passi non sarà necessario utilizzare breadboard, jumper o componenti elettronici sfusi. Infatti il kit groove vi fornisce un set di componenti con dei cavetti che potete utilizzare. Quindi realizzeremo dei circuiti senza saldare, senza trafficare sulle breadboard, qualcosa che potrebbe risultare un po' difficoltosa per chi è proprio alle prime armi oppure per chi si avvicina per la prima volta all'elettronica e vorrebbe ottenere un risultato senza doverlo sudare troppo. Quindi che cosa ci serve? Una scheda Arduino Uno R3, R4 o compatibile, un sensor kit di Arduino oppure un kit groove di SID Studio. Il kit groove è composto da una scheda madre che va applicata sopra Arduino, avrete poi un set di cavetti speciali e poi una dotazione di componenti pronti all'uso. Arduino è una scheda che nasce una quindicina di anni fa e serve per creare prototipi elettronici, circuiti interattivi o installazioni. Quindi è utilizzata da maker, artisti ma anche elettronici in senso generale. È una scheda open source che significa che i suoi progetti sono diffusi e liberamente consultabili, potete anche far vedere in casa. Questo ha favorito la sua diffusione. È dotata di una serie di pin, cioè buchi in cui inserire fili. Questi pin possono comportarsi come ingressi e uscite oppure ci sono tante altre funzioni per poter collegare oggetti o far comunicare la scheda con l'esterno. A questi pin solitamente si collegano dei fili chiamati jumper con delle breadboard. Nel nostro caso, invece, utilizzando il sistema Groove, avremo un montaggio dei prototipi molto molto semplificato, adatto a chiunque. In questo modo il risultato è sempre garantito. Se non sbagliate a scrivere il codice, vedrete sempre un risultato funzionante. Per semplificare il più possibile l'apprendimento di Arduino, utilizzeremo Arduino Uno, ho scelto l'R4 minima, che è l'ultima uscita, e l'Arduino Sensor Kit. Potete comunque usare una qualsiasi scheda Arduino, per esempio la 1R3 va benissimo. Questa è la scheda che utilizzeremo. E qui abbiamo il Sensor Kit. È un kit di componenti per Arduino modulari fornito da Seed Studio. Viene chiamato anche Groove. Il kit prevede una shield che va inserita sopra Arduino. Fate attenzione a infilare correttamente tutti i connettori. I componenti sono vari, ne potete anche acquistare altri a seconda di quello che vi serve. Avete pulsanti, relais, led, tutto quello che può servire per costruire dei circuiti e dei prototipi. Il collegamento avviene tramite questi cavetti, che sono molto pratici. Non c'è bisogno né di Brebor, né di componenti sfusi. E, per esempio, per collegare un led, andiamo a scegliere su che porta metterlo. Qua troviamo dei nomi che poi corrispondono ai pin di Arduino, di 2, di 3, di 4. Se volessi collegare un led su D3, infilerò il cavo qui e poi sul mio componente, in questo caso il led. Prima di iniziare a scrivere il codice, ci serve l'ambiente di sviluppo, che possiamo scaricare dal sito di Arduino. Quindi andate su www.arduino.cc, nella home page, andate sotto software, e qui potete scaricare l'Arduino IDE 2.3, che è l'ultima versione. Scegliete il vostro sistema operativo. Se avete Windows, vi consiglio di installare il primo link, quello più completo con l'installer. Avete i download anche per gli altri sistemi. Quindi cliccate, vi viene chiesto se volete fare una donazione, altrimenti fate just download. Qui vi chiedono se volete iscrivervi alla loro newsletter, altrimenti fate just download, e finalmente parte il download del vostro pacchetto di installazione. Lo salvate e lo installate come di consueto sul vostro sistema. Avviamo Arduino una volta installato. Potrebbero apparire una serie di messaggi che vi dicono di aggiornare librerie o l'ambiente di sviluppo. Fate sempre letter o chiudete. La prima volta che aprirete il vostro ambiente di sviluppo, avrete una finestra vuota, come in questo caso. Eseguiamo la prima connessione della scheda. La scheda è un Arduino minima R4, quindi la colleghiamo con un cavo USB al computer. Se avete collegato correttamente la scheda, dovreste vedere il LED ON accendersi. Utilizzate anche un cavo USB-C di buona qualità. Nell'ambiente di sviluppo, sulla parte di sinistra, se clicchiamo, si aprono una serie di voci. Clicchiamo sulla seconda icona, quella con la scheda a forma di Arduino. E qui abbiamo il Board Manager. Dobbiamo scrivere R4 per essere sicuri di aver installato l'ambiente di programmazione della scheda Arduino. Purtroppo le schede Arduino sono parecchie, basate su diverse piattaforme, quindi a seconda di quello che avete dovete verificare se avete installato l'ambiente. Io ho scritto R4, nel mio caso è già installato. Vedete che esce installed qui. Posso eventualmente aggiornarlo. Nel caso utilizzate una scheda 1R3, una nano, quindi una di quelle precedenti, potete verificare l'ambiente di programmazione scrivendo AVR. L'ambiente di programmazione per le schede Arduino 1R3 è l'Arduino AVR Board. Anche in questo caso dovreste trovarlo già installato. Procedete con l'installazione. Una volta che tutto è completo, con la scheda selezionata proviamo a caricare uno sketch. Chiudiamo cliccando sulla sinistra la barra laterale. Quello che vediamo qui è il nostro sketch, cioè il codice in cui scriveremo le istruzioni che vogliamo far fare ad Arduino. Per ora è vuoto. Il codice è scritto nel linguaggio C, C++, che è un linguaggio in teoria abbastanza complesso, ma come vedrete nel mondo Arduino tutto è più semplice. È diviso in due parti. Al di là di queste parole che vediamo qui, void, che vuol dire vuoto, nulla, c'è un nome, setup e loop evidenziato, e poi una serie di parentesi. Il codice nostro andrà sempre messo tra le due parentesi graffe. Qua dove abbiamo questa scritta in grigio con due barre davanti. Le due barre stanno a indicare un commento, cioè un'istruzione che il computer ignorerà. Arduino non considera quello che scriviamo qua. Possiamo scrivere qualsiasi cosa. Qui abbiamo due parti, una è setup e una è loop. Gli scherzi di Arduino sono sempre divisi in due zone. La parte setup contiene il codice che verrà eseguito una sola volta all'accensione quando lo riavviate, per esempio premendo il pulsante reset. E nella parte loop, questa zona, metteremo tutto il codice che verrà continuamente ripetuto. Quindi saremo sempre qui dentro una volta eseguito il setup. Il codice che caricate sulla scheda resta sulla scheda. Se voi la scollegate, la spegnete, la riaccendete domani, vi ritrovate su il software che avete caricato. Il programma che avete caricato non potete più scaricarlo. Cioè nel senso, se voi scrivete qui il codice, scrivete le vostre istruzioni, le caricate e perdete il listato, non potete recuperarlo dall'Arduino. Perché quello che viene caricato in Arduino è una forma compressa, diciamo così. Ora proviamo a collegare la scheda. Clicchiamo qui sopra, apriamo il menu a discesa, clicchiamo select other board, qui digitiamo R4, esce la nostra Arduino Uno R4 minima, la selezioniamo. Sulla parte destra dobbiamo scegliere la porta seriale. Dovreste vedere già la porta seriale, nel caso non sia visibile c'è qualche problema. Quindi verificate la scheda, verificate l'Arduino. In questo caso vedete che da me su Mac abbiamo la porta seriale con un nome particolare, però viene indicata serial port USB. Nel mondo Linux è simile, su Windows troverete COM con un numero, con 4, 5, 6, dipende da come viene individuato dal sistema. Ok, diamo OK. Come vedete la scritta qui è in grassetto, che vuol dire che la scheda è collegata ed è riconosciuta. Vediamo anche qui sotto in basso a destra la scritta simile, che ci conferma che la scheda è collegata. A questo punto abbiamo due passi da fare, che poi ripeteremo sempre. Sono il verify e l'upload. Verify serve per, il nome tecnico sarebbe compilare, cioè trasformare queste scritte che noi possiamo capire in un linguaggio comprensibile dal computer, dalla CPU di Arduino. Cliccando su verify, qui sotto si apre un pannello, una console, che ci dice che è andato tutto bene. Se ci fossero errori, qui sotto vedremo delle scritte rosse. Proviamo per esempio a scrivere delle lettere qui dentro, senza senso. Se faccio verify, compare un errore e dice BBB non è dichiarato. Quindi che cos'è questo BBB? E si ferma. Se fate attenzione, qui ci dice anche su che linea, la linea 3. Nella linea 3 abbiamo un problema. Ok, rimuoviamo l'errore. Verifico di nuovo. A questo punto posso caricare premendo il secondo tasto. Se premo la freccia, dopo qualche istante il codice verrà trasferito sulla scheda Arduino. E' stato trasferito e abbiamo terminato. Questo è un codice che non fa nulla, quindi non è accaduto assolutamente nulla alla nostra scheda. Possiamo andare a controllare. Come vedete è tutto fermo. Per svolgere il prossimo esercizio colleghiamo la nostra shield. Quindi andiamo a scollegare il cavo USB per evitare di far pasticci. Inseriamo la shield sopra l'Arduino. Verifichiamo bene che i pin si inseriscano. E schiacciamo. I nostri primi esperimenti utilizzeranno un semplice LED. Quindi ci serve un LED e un cavo di collegamento. Colleghiamo il cavo al LED e poi scegliamo un alloggiamento. Ce ne sono vari. Utilizziamo il D3. Possiamo collegare il cavo USB. Torniamo nell'ambiente di sviluppo. Ora vogliamo usare il LED collegato sul pin 2. Possiamo provare a fare un disegno, uno schema elettrico di quello che vogliamo realizzare. Quindi abbiamo il nostro Arduino che disegno in questo modo. Questo è uno schema, quindi è semplicemente un simbolo. Abbiamo scelto di utilizzare il pin 3. A questo collegheremo un LED che rappresento in questo modo. Questo è un modulo di groove. Quindi non è un vero e proprio schema elettrico, ma semplicemente è un diagramma che ci dice quali parti andiamo a collegare. Già che ci siamo, rivediamo alcuni concetti. I pin di Arduino vengono chiamati anche GPIO, General Purpose Input Output, cioè pin che si possono comportare come ingressi o uscite. Quindi un qualsiasi pin di quelli che abbiamo a disposizione può essere un'uscita o un ingresso. Un'uscita significa che può far uscire della corrente per andare a pilotare qualcosa, per esempio accendere un LED. Se diciamo al pin che deve essere un ingresso, vuol dire che può ricevere dei segnali dall'esterno e questi segnali li possiamo interpretare per far modificare o far accadere qualcosa tramite il nostro codice. Come faccio a dire che un pin sarà un'uscita? C'è un comando apposta che si chiama pinMode. Bisogna stare molto attenti come li scriviamo, bisogna rispettare maiuscole e minuscole e terminare le istruzioni sempre con un punto e virgola. PinMode vuol dire, sto dicendo che il pin sarà un ingresso o un'uscita. Quindi daremo 3 che è il numero del pin. Noi abbiamo scelto di usare il pin di 3, marcato sulla scheda. Mettiamo semplicemente il numero e poi qua diremo che questo è un'uscita, quindi scriveremo output. Iniziamo a configurare il pin e poi vedremo come comandarlo. Dove vado ad inserire l'istruzione che configura il pin? Dice se ho un ingresso su un'uscita e lo vado a mettere nel setup. Qua verrà eseguito una volta sola, è necessario dirlo solo all'inizio, che il pin è un'uscita. Quindi normalmente scriveremo pinMode3output. Quindi il nostro pin 3 si comporterà come uscita. E ora voglio comandarlo. Come faccio a dire che questo pin deve fare qualcosa? I pin di Arduino si comportano, e li possiamo controllare, come se fossero la luce all'interno della stanza. Esiste un comando che equivale a pigiare con il tasto sull'interruttore per accendere la luce all'interno della nostra stanza. Questo comando è DigitalWrite. DigitalWrite ha bisogno di sapere qual è il pin da controllare, quindi il 3. E poi dobbiamo dire se accenderlo o spegnerlo. Nel mondo di Arduino per dire accendo uso I, tutto maiuscolo. Quindi fate attenzione ai maiuscoli e minuscoli e vedete che io ho sempre messo il punto e virgola in fondo. Se vi dimenticate il punto e virgola esce un errore. Ma cosa farà questo codice? Aggiungiamo dei commenti per ricordarci quello che facciamo. Quindi imposto il pin e qui comando il pin, due punti, accendo il LED. Ok, se è tutto completo possiamo provare a caricarlo e vedere cosa succede alla scheda. Dovrei fare verify e upload. Posso premere direttamente upload perché si accorge che il programma non è ancora stato compilato, verificato, quindi farà la verifica e poi lo carica. Quindi faccio direttamente upload e dopo qualche secondo dovremo vedere accadere qualcosa sulla scheda. Come potete vedere il LED è acceso. Possiamo ripetere. Proviamo anche a spegnerlo. Però non spegniamolo subito perché altrimenti non lo vedremmo. Se io mettessi subito qua, spengo il LED. Secondo voi come si può spegnere il LED? Useremo lo stesso comando, digitalWrite. Posso copiarlo, faccio ctrl-c, ctrl-v, lo metto qui, qui mettiamo low. Quindi digitalWrite3 low spegne il LED. Se facessimo in questo modo non vedremo assolutamente nulla perché è troppo veloce. Arduino lavora a 16 MHz e tra l'altro l'R4 è ancora più veloce. Quindi vuol dire che queste istruzioni vengono eseguite nel tempo di qualche microsecondo. E non abbiamo proprio effettivamente la possibilità di vedere il LED che si accende e si spegne. Vedremo semplicemente il LED spento. Per poter vedere che il LED si spegne e si accende aggiungiamo una pausa. Per fare una pausa si utilizza un altro comando che è delay. Questo comando è abbastanza famigerato ma per i primi esempi va benissimo. Se metto 1000, sto facendo una pausa di 1000 millisecondi. 1000 millisecondi sono pari a un secondo. Proviamo a caricare e a vedere cosa accade ora. Attendiamo il caricamento. Avete visto che il LED si è acceso e si è spento. Proviamo a ripetere. Premo reset per far ripartire il programma. Si accende e poi si spegne. A questo punto potremmo arrivare al famoso blink. Che cos'è il blink? È un programma che fa lampeggiare il LED sulla scheda. Quando voi acquistate un Arduino nuovo di solito il LED lampeggia perché per provarlo caricano questo tipo di programma. Molto semplice. Abbiamo già parte della soluzione. Quindi abbiamo imparato a accendere, aspettare e spegnere. Come faccio a far ripetere questa cosa? Non sappiamo ancora creare dei cicli. Però abbiamo una parte del nostro sketch che è il loop. che continua a ripetersi. Quindi cosa succede se noi spostiamo queste istruzioni nella parte sottostante? Possiamo prenderle. Facciamo CTRL X le taglio. Lasciamo l'impostazione del pin nel setup ovviamente. Qui incogliamo queste istruzioni. Però attenzione manca un'altra parte. Immaginate di voler far lampeggiare la luce della vostra camera. Dovreste andare all'interruttore. premerlo una volta per accendere. Poi aspettate un secondo. Lo ripremete per spegnere. Aspettate un secondo. E poi lo ripremete di nuovo e la cosa si ripete. Quindi abbiamo due pause. Non una. Facendo così purtroppo non otteniamo il risultato voluto. Dobbiamo aggiungere una seconda pausa. Quindi copiamo il delay. E lo mettiamo qui sotto. Se volete possiamo provare a accorciare i tempi per fare un blink un pochino più brioso. Per esempio facciamo 500 e qua mettiamo 200. Sono tempi diversi. Vedremo quindi lampeggiare in modo un pochino più particolare. Quindi cosa succede qui? Partiamo. Nel setup imposto il pin 3 come uscita. Nel loop accendo. Aspetto mezzo secondo. Spengo il led. Aspetto ancora un po' e poi lo riaccendo. Per avere il tempo di vedere il led che lampeggia. Compiliamo. Non ci sono errori. A questo punto possiamo caricare e vedere che effetto produce. Al termine del caricamento vediamo il led che lampeggia. Provate a modificare i tempi e eventualmente aggiungere una sequenza diversa. Potete anche provare a collegare un secondo led. Quindi come si farà? Provate a pensarci. Dovete configurare un secondo pin e poi comandarlo qui dentro. Facciamo un passo in più. Abbiamo visto come impostare un pin come uscita. Vediamo come utilizzarlo come ingresso. Utilizzeremo un componente pulsante. Quindi un bottone. Che collegheremo alla scheda Arduino. Tracciamo lo schema. Per avere idea prima di quello che faremo. Quindi questo è il nostro R4. Sul pin 3 collegheremo sempre il led. Ve lo disegno così. Il pulsante lo collegheremo su un altro ingresso. Prendiamo per esempio il 2. E quindi qui metto il componente BT che poi collegheremo al nostro Arduino. Che cosa voglio fare? Voglio fare in modo che quando premo il tasto il led si accenda. Prendiamo il componente button e un altro jumper. Scolleghiamo Arduino. Colleghiamo il pulsante utilizzando il cavo. Lo colleghiamo sul pin D2. Ora possiamo collegare di nuovo Arduino e passare alla parte programmazione. Prima cosa configuriamo i pin. Utilizziamo pin mode. Abbiamo detto che il pin 3 è un'uscita. Ed è quello a cui abbiamo collegato il led. Quindi output. Poi abbiamo un altro pin, il 2, a cui collegheremo un pulsante. Questo pin sarà un ingresso perché riceverà un segnale. Quindi invece che output mettiamo input. State attenti è scritto tutto in maiuscolo. Abbiamo visto come impostare un pin. Quindi accenderlo. Come faccio a leggere lo stato? Per leggere lo stato usiamo digital read, che è il contrario di write. Dobbiamo indicare qual è il pin che ci interessa. Se il pulsante l'abbiamo collegato su 2, andremo a leggere con digital read lo stato di 2. Questo potrà avere solo due valori. Sì o no, acceso o spento. Cioè nel mondo Arduino abbiamo già visto è I e low. Posso usare questo risultato direttamente per controllare il pin. Quindi posso scrivere digital write, il led sul 3 e prendo direttamente quello che mi restituisce digital read e lo uso per controllare il led. Quindi lo prendiamo e lo utilizziamo direttamente. Perché l'ho messo qui e non qui? Perché la lettura deve essere fatta continuamente. Se io lo mettessi nella parte setup, potete provarlo come esempio, lo stesso sketch non funzionerà. Perché leggerà lo stato del led per una frazione di secondo, quindi un microsecondo, mentre fa il setup. Terminato il setup, passa al loop e continua a ripetere. Il loop è vuoto, quindi non succede nulla. Noi dobbiamo costantemente leggere lo stato del pin se vogliamo fare qualcosa. Quindi qua ogni microsecondo andrà a leggere lo stato dell'ingresso del pin 2, vede cosa c'è, si è acceso o spento, dipende se lo sto schiacciando oppure no, e quello che trova lo applica direttamente al led. Proviamo a caricarlo e vediamo cosa succede. Attendiamo il caricamento. Ora premendo il tasto vedete che il led si accende. Introduciamo un nuovo elemento. Senza cambiare la funzione, introduciamo quello che viene chiamato una variabile. Una variabile si può pensare come un cassettino all'interno della memoria del computer, in cui noi possiamo memorizzare un'informazione. Questo cassettino per essere richiamato deve avere un nome, quindi gli assegneremo un nome che ci permette di trovarlo e utilizzarlo. Qui dentro possiamo mettere qualsiasi informazione ci pare. Tipicamente metteremo numeri, testi o cose che Arduino può trattare. Il C++ è abbastanza preciso, quindi vuole sapere prima che cosa, che tipo di oggetto metteremo qui dentro. Cosa vuol dire che tipo di oggetto? All'interno del nostro codice gli oggetti saranno numeri solitamente interi, quindi vuol dire senza le virgole, numeri con virgola, oppure dei testi. La variabile più semplice è quella di tipo intero, un numero intero è un numero positivo, negativo, senza virgola. Quindi 1, 2, 123, meno 12, 0 e così via. Quando creiamo una variabile di tipo intero, dobbiamo prima dire ad Arduino il tipo della variabile, quindi scriveremo da qualche parte int. Poi gli daremo il nome. Il nome può essere un nome a piacere, basta che non inizia con un numero e usate dei nomi significativi. Non potete usare degli spazi, per esempio potrei chiamarlo button o pulsante. Posso farlo seguire da un numero, se avete bisogno di spazi potete mettere il trattino basso e poi altre cifre. Non usate caratteri strani, tipo più il per che è l'asterisco, punto esclamativo, due punti, cose di questo tipo, perché darebbero dei problemi. Limitatevi a numeri e lettere, partendo sempre con le lettere. Metto un punto in virgola e questo crea nella memoria del vostro Arduino una porzione di memoria in cui memorizzare un'informazione. Questa è detta la dichiarazione. Quando vado a inserire il foglio con numero, sto facendo invece un'assegnazione. Per assegnare un valore a button, faremo semplicemente button uguale e gli posso mettere uno, punto e virgola. Mettendo l'uguale assegno un valore. Andiamo a vedere come utilizzarlo. Quindi torniamo nel nostro codice. Semplicemente lo complichiamo un po'. Creo una variabile dentro il loop, quindi creeremo una variabile int. La lettura del pulsante mi dà una variabile di tipo intero, un numero, che viene mascherato con i e lo, ma semplicemente sarà 0,1. Quindi int, qui mettiamo button, posso crearlo e poi assegnarlo, come abbiamo visto prima, quindi posso fare button uguale. Che cosa metteremo? Metteremo il valore di Digital Red, il valore del pin. E poi posso utilizzare la variabile semplicemente scrivendo il suo nome. Quindi qui abbiamo tutti gli esempi. Qui la dichiaro. Qui sotto assegno il valore e qui la uso. Proviamo a compilare e caricare. Se volete l'assegnazione si può fare tutta in un colpo solo. Cioè io potrei fare int button uguale a Digital Read e questo quindi non mi serve. Ve lo lascio qua in tutti i casi. Vogliamo creare una variabile qua sotto che non utilizziamo. Facciamo esempio variabile. Facciamo int temperatura uguale 12. In questo caso l'abbiamo dichiarata e assegnata in un colpo solo. Compiliamo e poi carichiamo. Riceveremo probabilmente un errore perché abbiamo una variabile non utilizzata, quindi ci avvisa. Carichiamo. Ovviamente funziona esattamente come prima. Ma abbiamo utilizzato in più una variabile. Con l'Arduino abbiamo la possibilità di farci dare delle informazioni dalla scheda. Quindi possiamo far sì che la scheda ci mandi dei messaggi e non li possiamo ricevere all'interno del nostro ambiente di sviluppo. Questo è molto utile per sapere quello che si fa. Come si fa a creare questa comunicazione? Devo preparare la porta seriale. Va configurata. La configurazione si fa nella parte di setup. Quindi metteremo serial.begin. Mettiamo 9006. Cosa vuol dire? Serial.begin vuol dire inizializzo la porta seriale. 9006 è la velocità di comunicazione, cioè quanti simboli al secondo verranno trasmesse da Arduino verso il computer. Si possono mettere altri valori anche più alti, per esempio 115.200 è un valore tipico. 9006 è un valore abbastanza basso, ma comunque è sufficiente per leggere e ricevere. Questo 9006 sono i BOD, cioè simboli al secondo che vengono trasferiti. È necessario dirlo perché chi trasmette e chi riceve devono lavorare alla stessa velocità. Poi dopo vedremo come impostarlo anche qua. Per mandare un messaggio, semplicemente faremo serial punto, scrivo println. Println vuol dire stampa e ln vai a capo, vai sulla linea nuova. Qui dentro metto quello che si dice una stringa, cioè un messaggio di testo. Il messaggio di testo viene delimitato da due virgolette, quelle doppie, e qua posso mettere ello Arduino, per esempio, punto esclamativo. Prima di caricarlo conviene fare una cosa, che le nuove schede richiedono un certo tempo prima che la seriale sia pronta. Quindi qua mettiamo, in modo un po' brutale, un delay di un secondo. In questo modo qui abbiamo un'attesa di un secondo prima che il messaggio sia stampato. A questo punto carichiamo e proviamo ad aprire il serial monitor. Premiamo il reset sulla scheda. Ed ecco qua apparire la scritta Hello Arduino. Bene stampata una volta sola. Se volessi far ripetere il messaggio, potremmo fare così. Creiamo un conteggio che continua a crescere. Allora, abbiamo visto come creare una variabile. Se io mettessi una variabile qui, la chiamiamo count, la metto uguale 0, poi provo a stamparla. Usiamo sempre serial print ln. Quindi serial print ln, mettiamo count, il valore della variabile. Poi mettiamo un delay, altrimenti verrò inondato da questi numeri. E poi voglio aumentare il valore di count. Un sistema è questo qua, fare count uguale. Cosa metto dentro count? Il valore stesso di count, più 1. Quando Arduino arriva qui, dice, ok, devo modificare e aggiornare count. Con che cosa? Con count stesso. Adesso, quindi apre il cassettino, guarda quello che c'è dentro, aggiunge 1 e lo rimette dentro. Vediamo cosa succede. Purtroppo non funzionerà. Quindi vedremo sempre stampare lo stesso numero. Riapriamo il serial monitor. Diamo il reset. Ed ecco che stampa l'Arduino, poi sempre 0. Questo perché purtroppo, per come abbiamo scritto il programma, noi la variabile l'abbiamo messa qui. Quindi ogni volta ricrea questa variabile, che sarà 0, e quindi il valore non aumenta mai. Allora, come facciamo? Devo fare in modo di salvare questo valore. Basta spostare la variabile. Invece che metterla qua, nel loop, la metto fuori. Potrei mettere da qualsiasi parte e la mettiamo in cima al mio sketch. In questo modo creo una variabile globale. Questa variabile globale è visibile in ogni punto del mio programma. È come se setup e loop fossero due casette. Io la variabile count l'ho messa in giardino. Quindi da setup e da loop, se guardo fuori dalla finestra, vedo count e vedo il suo valore. Quindi posso usarla senza doverla dichiarare anche qua. Ora, ricaricandolo, vedrete che funzionerà. In questo modo count viene creata una volta sola, quando il programma viene fatto partire. E poi dentro loop non viene azzerata ad ogni ciclo. Difatti vedete stampa due, tre, quattro e così via. Aggiungiamo un'altra miglioria. Abbiamo visto serial print ln, ma c'è anche serial print. Se io volessi aggiungere qualche informazione in più, facciamo così. Allora, lo copio tre volte. Faccio serial print. Print, a differenza di print ln, non va a capo. Quindi potrei mettere qui count, due punti, uno spazio. Poi metto print di count, la variabile. Questa è semplicemente un testo. Quindi posso scrivere count, ma posso scrivere qualsiasi altra cosa. Quindi è un testo. Questa invece è la variabile che viene interpretata. E poi qui sotto posso mettere print ln, oppure posso usare un carattere speciale. Questo carattere speciale è slash n. Questo slash n è un carattere che fa andare a capo la stampa. Ce ne sono vari, per esempio c'è slash t che distanzia da una tabulazione. È analogo a fare print ln. Proviamo a caricare e vediamo cosa succede. All serial monitor, premiamo reset sulla scheda ed ecco che abbiamo il nostro conteggio che avanza. Parliamo di Pulse Wind Modulation, che è un modo particolare di produrre dei segnali adatti per controllare la luminosità, l'intensità luminosa dei led o la velocità dei motori. Questi segnali possono essere prodotti da alcuni dei pin di Arduino Uno, per esempio i pin 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Sulla scheda vedrete di fianco al numero una piccola bisciolina che sta a ricordare che sono PWM. Immaginate di avere un mazzo di carte, un mazzo di foto, su cui avete il disegno di un led spento. Ne avete un centinaio e prendete queste foto e le smazzate. Facendole passare rapidamente vedrete il film di un led spento. Prendete altre 100 foto. Queste 100 foto rappresentano questa volta un led acceso, quindi ben luminoso. Lo facciamo qua in verde. Se voi li smazzate vedete un film di un led acceso. Cosa succede se mischiate le cose? Se prendete una carta con il led spento e una con il led acceso, ne mettete una sì e una no. Vi fate un mazzo dove metà delle carte il led acceso e metà è spento. Se voi la smazzate vedrete il led acceso al 50%. Se fate 25 e 75 lo vedrete con un'intensità del 25% e così via. In questo modo, modulando il numero di carte accese e spente, potete avere tutti i livelli di luminosità da 0 al massimo. I pin di Arduino sono pin digitali, quindi escono segnali da 0 a 5 volt. Che vuol dire che se noi lo mettiamo su un grafico, abbiamo delle, vengono chiamate delle onde quadre. Quindi dei segnali fatti in questo modo. Questi segnali, come vedete, si ripetono dopo un certo periodo di tempo. Questo tempo è questo. Come vedete, è uguale. Viene chiamato il periodo. Ci indica con una T maiuscola. All'interno di questo periodo abbiamo una parte di tempo in cui il segnale è alto e una parte in cui è basso. Questi pin di Arduino fanno uscire delle onde quadre che hanno una frequenza di qualche kHz, vuol dire qualche migliaio di oscillazioni al secondo. Una cosa che possiamo modificare è la quantità di tempo accesa e spenta, senza cambiare il periodo. Quindi a parità di periodo, quindi con la stessa frequenza, tracciamo delle linee qui sotto, facciamo qualche esempio. Io potrei avere un segnale che ha il 25% acceso e il resto spento. Questo si ripete continuamente. L'effetto che avrò collegando un LED a questo pin che esce in questo modo, sarà di vederlo acceso al 25%. Se lo metto al 75% acceso, il LED sembrerà acceso al 75%. E così via, modulando quello che si chiama il Duty Cycle, cioè la percentuale di tempo acceso e spenta. Il PWM fa questa cosa qua, quindi ci permette di modificare i tempi di queste onde quadre. E il LED quindi può acquisire vari livelli di luminosità. Cosa faremo allora? Collegheremo al nostro Arduino R4 sul pin 3 un LED. Questo pin di metteremo nella bisciolina perché vogliamo provare a pilotarlo con un segnale PWM. Vediamo cosa succede. Vedremo anche un altro concetto che è quello di ciclo, in particolare vedremo il ciclo 4. Realizziamo prima l'hardware. Il circuito è molto semplice, prendiamo la nostra Arduino R4 e sulla posizione D3 colleghiamo l'LED con il cavetto. Passiamo al codice. Per poter generare un segnale PWM basta utilizzare l'istruzione AnalogWrite. È simile a DigitalWrite ma c'è scritto Analog. Può trarre l'inganno perché sembrerebbe che dai pin possa uscire qualcosa di analogico, di continuo, ma in realtà dai pin di Arduino escono solo segnali digitali. Quindi 0 o 5 volte. Questa AnalogWrite può essere utilizzata senza dichiarare il pin come un'uscita. Se volete per correttezza lo facciamo, facciamo pin mode, 3, mettiamo output, ma dovrebbe funzionare nello stesso modo perché è una gestione differente dei pin. E poi con AnalogWrite posso impostare il livello di acceso spento. Anche qui è come andare a premere il pulsante della luce della vostra stanza. Quindi se lo piggio, cioè se imposto il PWM, quello resta quel valore per sempre finché non lo modifico. Quindi AnalogWrite vuole il pin da comandare e poi vuole il valore di PWM. Il valore va da minimo a massimo. Se metto 0 il led sarà completamente spento. Il valore massimo è 255. Quindi 255 è completamente acceso. Non abbiamo un'onda quadra ma semplicemente un 5 volt costanti. Se metto valori intermedi lo accenderemo a vari livelli. Proviamo a farlo crescere in modo graduale. Partiamo da 0 e poi mettiamo un delay di un secondo. E poi faccio un copy and colla. Proviamo a mettere la seconda volta 100. Qua mettiamo 200. E infine mettiamo 255 che è il valore massimo. Proviamo a caricarlo e vediamo cosa succede. Come vedete il led si illumina a step. Possiamo usare questo controllo per andare a pilotare la luminosità del led in modo che crei una specie di blink più dolce. Lo facciamo salire e diminuire in modo da aumentare e diminuire l'intensità luminosa del led. Manteniamo parte dello sketch che abbiamo già scritto ma facciamo un po' di pulizia. Abbiamo visto qui come fare per modificare l'intensità del led gradualmente. Se volessi farlo aumentare e diminuire dovrei fare tutti gli step da 0 fino a 255 e poi da 255 fino a 0. Ora intanto qua non va bene perché è nel setup. Quindi dobbiamo spostare in qualche modo questi passi nella parte del loop. Potrei farlo già così e qualche effetto potremmo averlo, quindi vi invito a provare. Però c'è un modo più furbo anche perché dovrei fare quasi 500 variazioni con un delay ed è parecchio. Possiamo utilizzare un ciclo, in particolare il ciclo for, cioè creare una ripetizione delle istruzioni. Il ciclo for è uno dei due cicli principali, anzi ne abbiamo tre nel C che sono il for, while e do while. Vedremo solamente il for. Il for mi permette di ripetere delle istruzioni per un numero predeterminato di volte. Voglio farlo 100 volte e uso il for. Se non so quante volte si ripeterà l'operazione è meglio usare un while o do while. Ora il ciclo for ha bisogno di tre cose. Una variabile per tenere il conteggio. Quindi creiamo una variabile int, la chiamo i uguale 0. i è un nome non a caso, sta per iterator, è il contatore classico che di solito si usa nel ciclo for. Potete mettere qualsiasi cosa. Usiamo i. Seconda cosa, devo dire fin dove devo arrivare con il conteggio. Quindi andrò avanti finché i è minore, uguale di 255. In modo che mi fermi a 255. Terza cosa, devo spiegare ad Arduino come fare a aumentare il valore di i. Quindi qui devo mettere un'operazione per incrementare i. Posso scrivere i uguale i più 1. Questa scrittura in realtà si può abbreviare. I programmatori preferiscono scriverla in questo modo, i più più. I più più semplicemente prende il valore che c'è dentro la variabile i e l'aumenta di 1 in un colpo solo. Molto più pratico. Poi, non abbiamo finito, devo mettere delle graffe. Le potete ottenere premendo il tasto Alt, Shift e le parentesi quadre. O su Mac, Optin, Shift e le parentesi quadre. Oppure, se avete difficoltà, basta che le copiate dallo sketch. Mettendo le graffe, qui abbiamo il corpo. Questo qua è il corpo del ciclo for, cioè la parte che verrà ripetuta. Mi sono tenuto qua l'analog of write perché mi fanno comodo. Copiamo un analog of write e il delay, le metto qui. Queste qui possiamo cancellarle. Che cosa facciamo ora? Analog of write 3 perché usiamo il pin 3 e fin qui tutto bene. Poi, invece che mettere 0 qua, mettiamo i. Perché cosa succede qui dentro, nel ciclo for? La variabile i acquisirà il valore 0 ed ogni ripetizione di queste istruzioni aumenta. Quindi fa 0, 1, 2, 3 e arriva fino a 255. In questo modo, con una scrittura più compatta, riusciamo a ripetere 255 volte questa istruzione qua. Anzi, 256 perché da 0 a 255. È come se io avessi sto rubinettino e pian piano lo giro, 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 dal minimo al massimo. Il delay di 1000 è troppo. Mettiamo un delay più basso, per esempio 5, e vediamo cosa succede. Proviamo a caricarlo così. Al termine del caricamento vedete il led che parte da 0 e aumenta gradualmente. Come faccio a farlo diminuire? Basta copiare il ciclo for che abbiamo creato qui e rigirare la frittata. Diciamo CTRL-C, CTRL-V. Devo fare il contrario, quindi i partirà da 255. Devo andare avanti finché decrementerò questa volta. i deve essere maggiore o uguale di 0. E qui invece che fare i più più faccio i meno meno per decrementarlo. Proviamo a caricare. Se volete può star bene magari mettere qua un delay tra una fase e l'altra. Facciamo 200. Così abbiamo il tempo di vederlo spento o acceso. Carichiamo e vediamo cosa succede. Ecco il led che aumenta e diminuisce gradualmente. La nostra scheda Arduino è dotata di ingressi analogici. Questi ingressi analogici possono essere usati per leggere dei sensori o dispositivi che producono dei segnali che variano nel tempo in modo continuo. Quindi non sono 0 e 5 ma sono analogici, infatti in questo modo. Possiamo provare a leggere un segnale analogico utilizzando uno degli ingressi a disposizione. Sulla nostra scheda abbiamo per esempio gli ingressi marcati come A0, A1 e così via. E collegheremo quello che viene chiamato un potenziometro. Il potenziometro è un componente come per esempio può essere la manopola del volume del vostro stereo. Posso girarlo e a seconda di come lo giro mi farà leggere un valore di tensione agli ingressi di Arduino. Il potenziometro lo colleghiamo in modo semplice e immediato all'Arduino perché usa il sistema Groove, quindi con un cavetto. Come esperimento allora metteremo su A0 il nostro potenziometro. Chiamo P, come avete visto è un cubetto dotato di un alberino che possiamo ruotare. Dall'altra parte colleghiamo un led sul pin 3. Prendo il pin 3 perché è PWM. Proviamo a modificare l'intensità del led agendo sul potenziometro. Abbiamo già il led collegato sul pin 3. Colleghiamo il potenziometro, sempre con lo stesso sistema, all'ingresso A0. Per leggere l'ingresso analogico si utilizza l'istruzione Analog Read. Un po' come il pulsante, era Digital Read, non la mettiamo nel setup ma la mettiamo nel loop questa istruzione. Quindi posso leggere quello che arriva dal pin. Analog Read ha bisogno di un parametro, si chiama così il valore che mettiamo qui, che è il nome del pin che vogliamo leggere, quindi A0. Dove lo mettiamo, questo dato che viene letto? In una variabile. Quindi creiamo una variabile int, la chiamiamo pot uguale, e gli assegniamo il valore preso da A0 con Analog Read. Non dimentichiamo il punte virgola. Questo valore va da 0 a 1023, cioè abbiamo 1024 valori. Ora abbiamo visto che possiamo controllare il led utilizzando Analog Write. Dobbiamo dare il pin e poi qua dobbiamo dare il valore del pvm. Allora abbiamo un problema, perché qui andiamo da 0 a 1023, mentre il led lo piloto da 0 a 255. Come faccio a raccordare questi due valori che hanno due range diversi? Possiamo intanto creare una variabile, la chiamiamo pvm, e qui dentro metteremo la nostra soluzione. Si può fare in vari modi, per esempio potreste dividere il valore di pot, fate pot diviso 4 e dovremmo esserci. Oppure, un sistema usato spesso nel mondo Arduino, è usare la funzione map. La funzione map permette di fare le proporzioni, quindi vuole 5 cose. Il primo è la variabile di lettura, di ingresso, quindi gli diamo pot. E poi gli diciamo pot va da 0 a 1023. E poi gli diciamo come vogliamo tradurla. Quindi diremo che voglio che la variabile pot, che va da 0 a 1023, sia ridotta in un range da 0 a 255, così che sia compatibile con il nostro pin pvm. Scriviamo qua il valore di pvm e dovremmo essere a posto. Proviamo a caricare e vediamo cosa succede. Al termine del caricamento possiamo agire sul potenziometro. Vedete che il led parte da spento e aumenta la sua luminosità a seconda di quanto giriamo. Possiamo avere un'indicazione di questi valori anche tramite la seriale. Quando facciamo i nostri prototipi è buona cosa stampare in giro un po' di informazioni. Quindi attiviamo la seriale con serial.begin9006 e qui stampiamo i valori ricevuti. O ne stampiamo uno solo, potrei fare cose più complicate. Andiamo a stampare solo il valore letto dal potenziometro. Quindi potete mettervi dove volete. Facciamo serial.println Stampo direttamente pot.begin9006 Se facesse così vomitiamo valori senza fine. Allora mettiamo in fondo un delay per limitare un po'. Facciamo 100 millisecondi in modo da avere 10 letture al secondo. Carichiamo il tutto. Dal punto di vista dell'hardware non cambia nulla. Apriamo il serial monitor. Vedete che il led è spento, vedo zero. Girandolo, girando il potenziometro, i valori aumentano fino a 1023. Possiamo anche vedere un'altra cosa. Andando qui in alto abbiamo oltre al serial monitor il serial plotter. Clicchiamo su serial plotter. Si aprirà una finestra, eccola qua, che mi disegnerà effettivamente il segnale ricevuto. Proviamo a modificare il led e vedete che abbiamo un grafico del valore. Vediamo un'altra possibilità che abbiamo. Intanto come esercizio potete provare a invertire i valori di uscita. Mette 255.0 a vedere cosa succede. In quel caso invertite l'azione del potenziometro. Proviamo a modificare il codice in modo che il led si accenda se il potenziometro supera un certo valore. Vi sarete accorti che ho usato una parola importante, se. In inglese si traduce if ed è un comando del C. Permette di prendere una decisione. Quindi se succede una certa cosa allora farò questo o quest'altro. Possiamo usare questa struttura di controllo, si chiama così, mettendo la parola if, poi due parentesi in cui mettiamo il test, quello che vogliamo verificare. Vogliamo accendere il led se il potenziometro è maggiore di, immaginiamo prendere il valore a metà, quindi pot va da 0 a 1023, se supera 512, allora accenderemo il led. Metto le graffe subito dopo e qui dentro vado a scrivere il codice da eseguire se il valore del potenziometro supera 512. Vogliamo semplicemente accendere e spegnere il led? Possiamo usarlo, comandarlo in digitale. Quindi aggiungo pin mode 3 output qui sopra. E qua se il potenziometro è sopra 512 farò digital write di 3 I. Quindi schiaccio il pulsante sul muro per accendere il led. Poi aggiungo else, vuol dire altrimenti. Allora se pot maggiore di 512, pot maggiore di 512 lo accendo, altrimenti nel caso contrario lo spengo. Quindi faccio copia e incolla del digital write, qui mettiamolo e il resto non ci serve. Togliamo, lasciamo il delay, vado a che possiamo anche stampare i valori, proviamo a caricarlo. In questo modo si comporta come una specie di termostato. Potete sostituire il potenziometro con un sensore analogico, per esempio di luce e di temperatura che trovate nel kit, e far accendere il led o scattare un relay, oppure attivare qualcosa, nel caso il valore del sensore superi una certa soglia. Allora andiamo a aprirsi dal monitor, vedete siamo a 580 e il led è acceso. Giro dall'altra parte, vedete che scendendo siamo a 0 ed è spento. Salgo, 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 arrivo a 300, salgo 400 ed ecco che appena passo i 500 il led si accende. Affrontiamo un ultimo argomento e proviamo a utilizzare un sensore complesso. Questo che vedete è un DHT20, un sensore di temperatura e umidità digitale. Anche questo si collega con lo stesso sistema, quindi lo connettiamo al GRU tramite il suo cavetto. Questo però è particolare, è digitale e va collegato sulla porta I2C. Ne abbiamo varie qua, sono mancati I2C. I2C è un protocollo di comunicazione particolare che utilizza solo due fili, una specie di seriale. Abbiamo collegato quindi il nostro sensore a uno o qualsiasi di quelle porte I2C, che supportano più di 200 dispositivi collegati, quindi un sistema molto utilizzato. I cavi non possono mai essere troppo lunghi però. Vediamo come utilizzare questo oggetto che è un oggetto complesso. In realtà l'utilizzo è semplice perché sfrutteremo delle librerie scritte da qualcuno per noi. Apriamo un nuovo sketch, clicchiamo sulla parte di sinistra dove vediamo questa specie di libreria. Qui cerchiamo DHT20 che è il nome dell'oggetto. Ovviamente lo so perché l'ho letto sul bordo della scatola. Abbiamo due possibilità. Proviamo a installare il primo, DHT20 by Rob Tillart. Facciamo install. Vedete qui di fianco, compaiono dei messaggi. È stato installato. Possiamo chiudere. A questo punto dovremo trovare sotto sketch, nelle librerie, la libreria DHT20. Difatti la troviamo qua. Ma abbiamo già anche degli esempi perché non ho idea di come si utilizzi. Se andiamo sotto esempi, solitamente gli sviluppatori creano degli esempi per utilizzare le loro librerie. Difatti troviamo DHT20 e vari sketch. Proviamo ad aprire il primo, DHT20. Ci sono una serie di link, descrizioni. Come vedete lo sketch è abbastanza complicato. Non andiamo troppo nel dettaglio. Proviamo a caricarlo così com'è per vedere se il tutto funziona. Facciamo attenzione solo che qua la velocità è a 115.2. O la modifichiamo qui o nel serial monitor. Avendolo impostato a 9.600 cambiamola qua. Proviamo a caricare direttamente. Apriamo il serial monitor per vedere se la libreria è stata installata e l'oggetto funziona. Al termine del caricamento apriamo il serial monitor. Apriamo il serial monitor. Se non appare nulla diamo un reset. Ed ecco qua i dati raccolti. Quindi abbiamo l'umidità e la temperatura. Se qualcosa non dovesse funzionare verifica bene. Intanto che la scheda è collegata. Quindi che il LED power on è acceso. Controlla il cavetto. Controlla se c'è da installare qualche driver. Solitamente no. Sulle schede nuove se usi Windows o Mac non è necessario installare driver. Su qualcuna magari un pochino più antica. Ma mi pare strano. A meno che le trovate in fondo a un cassetto. Oppure su quelle cinesi. Croni cinesi è necessario installare un driver CH340. Vai a vedere il mio video in cui spiego come farlo. Non è complicato. Se le cose non funzionano controlla anche che la shield di Groove sia installata correttamente su Arduino. Magari qualche pin può essersi spostato. Quindi verifica bene. Fai attenzione quando le metti insieme. Controlla i cavetti. I cavetti Groove non sono complicati. Però potrebbe essere che magari li hai inseriti male. Non puoi metterli al contrario. Perché hanno una tacca che non permette l'inversione del cavo. Sulla parte elettronica ci sono pochi dubbi. Quindi dovrebbero funzionare al primo colpo. L'altro problema potrebbe essere il software. Quindi controlla bene di aver scritto maiuscoli e minuscoli. Di avere i punti virgola. Che le parentesi siano accopiate. Nel caso c'è un repository. Lo trovi nella descrizione. Con tutti i file sorgenti che puoi scaricare. Bene spero che il video vi sia piaciuto. Se non sei ancora iscritto al mio canale. Ti chiedo di farlo. Mettere un like per il video. Mi dai una mano a crescere. Se il video va bene. Ci ho messo un po' a farlo questo. Perché ovviamente è un video corposo. Dura parecchio tempo. Lo puoi tenere a riguardare. In modo che ti fa come da manuale online. Video manuale. Se il video va bene. Ho il programma di farne altri. Con alcuni progetti realizzati con questo kit. E anche con la scheda Arduino R4 con Wi-Fi. In modo da avere un video con 10 progetti. E 10 progetti connessi. Per oggi è tutto. Ti ringrazio. Ti saluto. Ci vediamo presto. Ciao. Ciao.